Primo punto all'ordine del giorno, buona anno, buongiorno a tutti e approvazione dei verbali della seduta precedente. Leggo solo per titolo individuazione della stazione appaltante per la gestione in forma associata per la gara, distribuzione del gas naturale, esame di approvazione del diritto di studio per l'anno scolastico 2019-2013, la relazione sullo stato di attuazione dell'Unione dei Comuni, approvazione e variazioni al bilancio di previsione e esercizio finanziario 2012, riconiezione degli equilibri finanziari di bilancio, approvazione verbali della seduta precedente. Se ci sono interventi da fare, approviamo, allora favorevoli, contrari, assoluto, assoluto.